Benvenuti nel podcast di Caliburn, dove il Medioevo è infinito! Siamo giunti al tredicesimo canto del Purgatorio. Qui Dante e Virgilio giungono alla seconda cornice del Purgatorio, dove incontreranno i peccatori di invidia. Ed ora iniziamo con la lettura. Noi eravamo al sommo della scala, dove secondamente si risega lo monte che salendo altrui dismala. Ivi così una cornice lega d'intorno il pozzo, come la primaia, se non che l'arco suo piuttosto piega. Ombra non li è né segno che si paia. Parsi la ripa e parsi la via schietta, con l'ivido color della petraia. Se qui per dimandare gente s'aspetta, ragionava il poeta, io temo forse che troppo avrà d'indugio nostra eletta. Poi fisamente al sole gli occhi porse, fece del destro lato a muover centro, e la sinistra parte di sette orse. O dolce lume, a cui fidanzai entro, per lo nuovo cammin tu ne conduci, dicea, come condur si vuol qui in centro. Tu scaldi il mondo, tu sovresso luci, s'altra ragione in contrario non ponta, esser di e non sempre i tuoi raggi ducci. Quanto di qua per un miglio si conta, tanto di là eravamo noi già iti, con poco tempo per la voglia pronta. E verso noi volare furono sentiti, non però visti, spiriti parlando, alla mensa d'amor cortesi inviti. La prima voce che passò volando, «Vinum non abent», altamente disse, e dietro a noi l'andò reiterando. E prima che del tutto non si udisse per allungarsi, un'altra, «I son oreste», passò gridando, e anche non si affisse. «Oh», dissi io, «Padre, che voci son queste?» E com'io domandai, ecco la terza dicendo, «Amate da cui male aveste». «È il buon maestro!» Questo cinghio sferza la colpa della invidia, e però son tratte d'amor le corde della ferza. L'offren vuole essere del contrario suono. Credo che lo dirai, per mio avviso, prima che giunghi al passo del perdono. Ma ficca gli occhi per l'aere ben fiso, e vedrai gente innanzi a noi sedersi, e ciascuno è lungo la grotta assiso. Dante e Virgilio giungono alla seconda cornice, e Dante la descrive come uguale alla prima, solamente con un arco minore, quindi è più piccola rispetto alla prima cornice. E a differenza della prima cornice, qui non vi sono sculture, né sulle pareti, né per terra. Ma la roccia qui si presenta liscia. Inoltre questa seconda cornice appare loro completamente deserta, non vi sono anime all'orizzonte. Virgilio, nel vedere la cornice deserta, teme di indugiare troppo nell'aspettare dell'arrivo di qualcuno, per appunto chiedere quale sia la via giusta per salire al monte del purgatorio. Quindi Virgilio alza lo sguardo verso il sole, e si gira verso di esso, cioè verso destra, e prega dolcemente il sole di guidarli. Questa preghiera di Virgilio non è posta a caso, come vedremo anche nel corso di questo canto. È infatti il sole che simboleggia il divino, la vera guida in questa cantica non è Virgilio. Virgilio, infatti, che è la ragione, era una guida sicura durante il viaggio all'inferno. Ma lì nel purgatorio la ragione non è così sicura. C'è bisogno della fede per procedere, e c'è bisogno della luce del sole, della luce divina. Mentre proseguono lungo questa seconda cornice, Dante ad un certo punto sente delle voci, come delle voci di spiriti, in quanto non vede appunto nessuno. Sono voci che riecheggiano nell'aria. E Dante distingue tre frasi. La prima voce dice «Vinum non abent», cioè «non hanno vino», ed è la frase detta da Maria nel Vangelo durante le nozze di Cana, quando spronò Gesù a compiere il primo miracolo, cioè trasformare l'acqua in vino, in quanto i commensali a queste nozze erano appunto rimasti senza vino. La seconda frase è «Io sono Oreste», che è una citazione da una tragedia di Pacuvio, il Crises, che Dante avrebbe potuto leggere nel Definibus di Cicerone. L'episodio narra di quando due amici, Oreste e Pilade, si reccano nella Tauride per rapire la statua di Artemide, ma scoperti vengono condotti davanti a re Toante, il quale voleva la morte di Oreste, in quanto figlio di Agamennone, ma non lo conosceva. Pilade, a questo punto, per salvare l'amico, dice appunto «Io sono Oreste». La terza frase è sempre tratta dal Vangelo ed è detta da Gesù Cristo, il quale sprona i propri discepoli ad amare il prossimo, ad amare i propri nemici. Questi tre esempi, due presi dal Vangelo e uno dall'antichità classica, sono esempi di carità, come spiega molto bene Virgilio a Dante. E come sempre si parte appunto con un episodio della vita di Maria, cioè le nozze di Cana. Virgilio quindi spiega a Dante che ci sono questi esempi di carità in quanto lì viene punito il peccato dell'invidia e che quindi poi, prima di arrivare alla fine della cornice, dove lo attenderà l'angelo per togliergli un'altra P, e quindi molto probabilmente ascolterà esempi di invidia punita. Una volta spiegato il significato di queste parole, Virgilio spinge Dante ad osservare meglio ciò che è attorno a loro. Infatti, vedrà finalmente le anime che sono lì in quella cornice. Ed ora continuiamo con la lettura. Allora, più che prima gli occhi apersi, guardami inanzi e vidi ombre con manti al color della pietra non diversi. E poi che fummo un poco più avanti, udì a gridare, Maria, ora per noi, gridare, Michele e Pietro e tutti i santi. Non credo che per terra vada ancoi omo si duro, che non fosse punto per compassione di quel che io vidi poi. Che, quando fui si presso di lor giunto, che gli atti loro a me venivano certi, per gli occhi fui di grave dolor munto. Di vilciliccio mi parean coperti. E l'un sofferì all'altro con la spalla, e tutti dalla ripa erano sofferti. Così gli ciechi a cui la roba falla stanno a perdoni a chieder lor bisogna, e l'un il capo sopra l'altro avvalla. Perché in altrui pietà tosto si pogna, non pur per lo sonar delle parole, ma per la vista che non meno agogna. E come agli orbi non approda il sole, così all'ombre quivi, ond'io parlo ora, luce del ciel di sé l'argir non vuole, che a tutti un fil di ferro i cigli fora, e cusce sì. Come a sparvier selvaggio si fa però che queto non dimora. A me pareva, andando, fare oltraggio, veggendo altrui, non essendo veduto, per chi io mi volsi al mio consiglio saggio. Ben sapevei che volea dirlo muto, e però non attese mia dimanda, ma disse Parla, e si è breve e arguto. Virgilio mi venia da quella banda della cornice onde cadersi puote, perché da nulla sponda si inghirlanda. Dall'altra parte m'eran le divote ombre, che per l'orribir costura premevan sì, che bagnavan le gote. Volsimi a loro, e, o gente sicura, incominciai, di veder l'alto lume, che il disio vostro solo ha in sua cura. Se tosto grazia risolve le schiume di vostra coscienza, sì che chiaro per essa scenda della mente il fiume, ditemi che mi fia grazioso e caro, s'anima è qui tra voi che sia latina, e forse lei sarà buon se l'apparo. O frate mio, ciascuna è cittadina d'una vera città, ma tu vuol dire che vivesse in Italia peregrina. Questo mi parve per risposta a udire più innanzi al quanto che là dove io stava, ond'io mi fece ancora più la sentire. Tra l'altro vide un'ombra che s'aspettava in vista, e se volesse alcun dire come, l'omento a guisa d'orbo in sullevava. Spirito, dissi io, che per salirti d'ome, tu sei quelli che mi rispondesti, fammi conto o per luogo o per nome. Dante a questo punto vede le anime degli invidiosi ed è una visione tragica per lui. Vede infatti queste anime sedute l'una a fianco all'altra e addossate alla ripa del monte e sono coperte da mantelli di vile cilicio che era un tessuto grezzo fatto di setole di cavallo i cui nodi pungevano le carni di chi le indossava e spesso a quel tempo veniva utilizzato appunto come penitenza indossare queste vesti mortificava le carni di chi le indossava. E a Dante questa visione sembra appunto ricordare quei ciechi che si affollano si siedono davanti alle chiese per chiedere l'elemosina e non è un caso che Dante utilizzi questa similitudine. Infatti la cosa che più muove a compassione Dante è il fatto che gli occhi di queste anime sono cuciti con fili di ferro e qui il contrapasso è evidentissimo infatti era noto anche in letteratura ad esempio in Sant'Agostino che l'invidia rendeva ciechi gli uomini queste anime dunque non possono vedere il sole che ricordiamo il sole è un'emanazione della potenza divina è un simbolo del divino queste anime degli invidiosi hanno quindi gli occhi cuciti con il filo di ferro come uno sparviero selvaggio in modo da addomesticarlo era infatti usanza cucire appunto le palpebre degli sparvieri quando non erano ancora addomesticati appunto per renderli più docidi e troviamo appunto anche tutto il procedimento di questa pratica nel trattato sulla caccia con lo sparviero di Federico II queste anime quindi se ne stanno lì sedute e pregano dicendo appunto le litanie quindi pregano Maria dicendo Maria ora pronobis Maria prega per noi e così con Michele Pietro e tutti gli altri santi Dante a questo punto si vergogna di passare accanto a queste anime cieche che non possono vederlo e Virgilio come sempre capisce i pensieri di Dante e lo sprona a rivolgersi a loro ma di essere breve e conciso e Dante quindi parla a queste anime si rivolge a loro con una captatio benevolentia chiamando appunto queste anime sicure di poter vedere l'alto lume cosa che ora non possono fare in questo canto come abbiamo visto la tematica della vista è centrale Dante qui fa parecchi riferimenti alla vista agli occhi indugia molto nel descrivere le azioni che vengono fatte con gli occhi dal piangere al guardare il sole e anche tutte le varie similitudini che usa sono riferite agli occhi e alla vista Dante quindi chiama queste anime e chiede se tra loro vi sia qualche anima latina cioè italiana ma una di queste anime risponde che tutte queste anime sono cittadine della vera città cioè del paradiso non vi sono distinzioni e non è un caso che si faccia riferimento qui a questa cittadinanza comune del paradiso in quanto sono appunto le divisioni che creano l'invidia l'essere posti in varie categorie ma quest'anima che parla subito dopo questa affermazione diciamo corregge un po' il tiro dicendo forse forse cerchi qualche anima che sia stata straniera in Italia cioè che fosse italiana ma che ora fa parte della grande cittadinanza paradisiaca Dante non capisce subito da dove proviene questa voce però vede poco innanzi a lui un'anima che alza il mento come ad aspettare una risposta quindi si avvicina e gli chiede se è stata lei a parlare e di riferirgli qual è il suo luogo d'origine ed ora continuiamo la lettura e scopriamo di chi si tratta io fui sanese rispose e con questi altri rimendo quella vitaria lagrimando a colui che se ne presti savia non fui avvegna che sapia fossi chiamata e fui degli altrui danni più lieta sai che di ventura mia e perché tu non creda che io ti inganni odisi fui come ti dico folle già discendendo all'arco di miei anni erano i cittadini miei presso a colle in campo giunti con loro avversari e io pregava il dio di quel che volle rotti fuor quivi e volti negli amari passi di fuga e veggendo la caccia le tizia presi a tutte altre dispari tanto che io volsi sull'ardita faccia gridando a dio ormai più non ti temo come fei il merlo per poca bonaccia pace vogli con dio in sullo stremo della mia vita e ancora non sarebbe lo mio dover per penitenza scemo se ciò non fosse che a memoria mebbe pier pettinaio in sue sante orazioni a cui di me per caritate increbbe ma tu chi sei che nostre condizion vai dimandando e porti gli occhi sciolti siccome io credo espirando ragioni l'anima si presenta e dice di essere senese e di non essere stata molto saggia sebbene di nome facesse sapia di questa sapia non conosciamo molto sappiamo che apparteneva alla famiglia senese dei salvani era infatti la zia di provenzano salvani che abbiamo visto tra i superbi nella prima cornice del purgatorio e fu sposa di guinibaldo di saracino signore di castiglioncello presso monterigioni sapia quindi narra la vicenda che l'ha portata a peccare infatti dice che quando i senesi si scontrarono contro i guelfi fiorentini a colle valdelsa pregò molto che i propri concittadini venissero sconfitti non si sa il motivo di questa invidia appunto verso i propri concittadini tanto da volerli vedere sconfitti in battaglia e quando le sue preghiere vennero esaudite sapia era così contenta da rivolgersi al cielo dicendo dio ora non ti temo ed è questo il vero peccato di sapia questa arroganza dettata dall'invidia ma sapia poi si pentì della sua condotta si pentì in punto di morte per questo motivo non finì all'inferno ma al purgatorio sapia dunque si trova lì tra gli invidiosi e non tra coloro che si sono pentiti alla fine della loro vita e che quindi dovrebbero essere nell'antipurgatorio questo perché la sua permanenza nell'antipurgatorio venne di molto accorciata dalle preghiere di pier pettinaio pier pettinaio fu un terziario francescano ed era noto per la sua santità già in vita i commentatori lo ricordano come un uomo pieno di dio un uomo che provava pietà verso i peccatori e i condannati e implorava spesso la misericordia di dio per loro non sappiamo però se pier pettinaio abbia effettivamente pregato per questa sapia ma dante ha utilizzato il suo esempio appunto per ricordare al lettore come la preghiera di un uomo giusto possa garantire la salvezza delle anime nel purgatorio e accorciare la loro permanenza lì una volta narrata la sua vicenda sappia chiede a dante chi sia perché ha capito che colui che si trova davanti non ha gli occhi cuciti come lei e respira ed ora continuiamo la lettura e terminiamo il canto gli occhi di Sio mi fiano ancora qui tolti ma piccio il tempo che poca è l'offesa fatta per essere con invidia volti troppa è più la paura onde è sospesa l'anima mia del tormento di sotto che giallo un carco di laggiù mi pesa ed è la me chi t'ha dunque condotto quassù tra noi se giù ritornar credi e io costui che è meco e non fa motto e vivo sono e però mi richiedi spirito eletto se tu vuoi che io muova di là per te ancor l'immortai piedi oh questa è a udirsi cosa nuova rispose che gran segno è che Dio t'ami però col priego tuo talor mi giova e che giotti per quel che tu più brami se mai calchi la terra di Toscana che a miei propinqui tu ben mi rinfami tu li vedrai tra quella gente vana che spera in talamone e perderà gli più di speranza che a trovarla Diana ma più vi perderanno gli amiragli Dante risponde a Sapia con una missione di colpa cioè dice che quando arriverà la sua ora sarà anche lui in quella cornice anche lui verranno cuciti gli occhi ma per breve tempo in quanto peccò poco di invidia ma in realtà teme di più la penitenza della prima cornice cioè quello della superbia e già sente le sue spalle gravate del peso del macigno Dante quindi ammette di essere peccatore e che il suo peccato più grave è quello della superbia non a caso una delle tre fiere il leone che simboleggia appunto la superbia che costringono Dante a tornare sui propri passi all'interno della selva oscura ma nonostante Dante ammette di essere superbo con le sue parole rifiuta questo peccato e la divina commedia è appunto questo la comprensione del peccato e il rifiuto di questo peccato tutto il suo viaggio è infatti un lungo purgatorio poi Dante chiede a Sapia se vuole che in qualche modo muova i suoi piedi mortali per suo conto quando tornerà sulla terra e Sapia è felice di questo è una novità che è un segno dell'amore di Dio e quindi lo prega di ricordarlo nelle sue preghiere e se mai andrà in Toscana di riparare alla sua reputazione presso i suoi concittadini ma con l'ultima terzina Sapia non ha non ha ancora un buon rapporto con questi suoi concittadini con i senesi infatti li chiama la gente vana cioè il popolo vanesio ed era un po' la critica che veniva fatta dai fiorentini ai senesi li indicavano come gente vanesia allo stesso modo i senesi criticavano i fiorentini dandogli degli orbi e questi senesi sono così vanesi che sperano in Talamone Talamone era un porto nella Toscana meridionale che i senesi avevano comprato a caro prezzo dai conti di Santa Fiora sperando così nell'avere uno sbocco nel mare di avere un forte incremento nel commercio pensavano di diventare un po' una sorta di potenza marinara un po' come Genova o Venezia ma in realtà questo porto non funzionò granché e quindi i senesi spesero un sacco di soldi per niente inoltre dice Sapia che i senesi spenderanno altrettanti soldi nella speranza di trovare la Diana La Diana infatti era un immaginario fiume sotterraneo che passava sotto Siena e siccome la città di Siena non aveva grosse fonti d'acqua ogni tanto qualcuno cercava di scavare alla ricerca appunto di questo fiume immaginario e Sapia con tono molto sarcastico appunto dice che i senesi hanno così tanta speranza in queste cose vane che vi perderanno gli ammiragli qui i commentatori intendono la parola ammiragli in due sensi alcuni prendono il termine nel senso antico cioè come appaltatori impresari dei lavori il che si adatta sia ai lavori al porto di Talamone sia a quello della Diana nel cercare questo fiume immaginario secondo altri commentatori si intenderebbe ammiragli come capi della flotta della futura flotta al Talamone la cosa però non cambia molto sia in un senso che nell'altro in quanto qui Sapia fa riferimento alla grande quantità di denari spesi da questo popolo vanesio in cose assurde come il cercare un fiume sotterraneo o il creare un porto che in realtà non serviva a niente e che hanno speso un sacco di soldi soprattutto nella bonifica del territorio quindi possiamo dire che ne perdono sia gli appaltatori gli impresari di questi lavori sia gli ammiragli di una flotta che non si costituirà mai termina così il tredicesimo canto del purgatorio un saluto da Caliburn e ci sentiamo nel prossimo episodio un saluto